Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Recentemente ho visto un video di Marco Bracca che insieme all'amico Mattia del canale Watchmaniac vanno in visita presso Nomos e per cui insomma prima di tutto vi invito a vedere il video perché si possono vedere anche delle immagini della manifattura di Nomos che sono molto interessanti. Ma oggi diciamo in questo video vorrei invece parlare di quello che viene detto durante insomma questo viaggio che viene portato avanti da questi due youtuber. Ora l'impressione che ho avuto io insomma è che Bracca sia partito molto entusiasta insomma di questa di questa faccenda mentre invece insomma per Mattia credo sia stata più l'occasione di fare un paio di giorni di ferie insomma c'è andato più per una passione sua insomma no un piacere suo ecco di visitare la manifattura ma insomma l'ho visto un pochino un pochino più distante no un po' distaccato per cui anche un po' più moderato e credo che invece o invece durante diciamo il viaggio ecco soprattutto in aereo da quello che posso interpretare io sia stato martellato insomma dal Bracca no con insomma con i suoi diciamo così discorsi no con i suoi progetti potenziali no che sono ormai insomma li sappiamo tutti aprire un negozio di orologi usati oppure aprire fare un micro brand oppure non ho capito se aggiustare gli orologi però non vuole fare il corso però vuole imparare però insomma questo tutte queste cose che io credo mia interpretazione naturalmente personale credo che mattia abbia tentato ecco diciamo così di schiacciare un pisolino insomma ha tentato diciamo di rifugiarsi nel nel sonno però per stessa ammissione del Bracca non non c'è riuscito gli è e credo insomma mia interpretazione sono su questi su questi temi ora il Bracca insomma lo sappiamo no con i video insomma che ha realizzato lui propone tutto su youtube poi non so se prende il modus operandi suo credo sia quello di proporre tutto in rete mettere tutto in rete e poi dopo non so prendere spunto da quello che gli dicano su internet insomma quelli che sono i commenti penso e quindi insomma dico anche dico anche la mia ora su insomma su questo argomento sul modo suo di lavorare insomma ecco ora io penso questo se uno porta avanti il canale come un appassionato cioè come posso essere io naturalmente si può parlare un po di tutto no cioè si può parlare del psycho five si può parlare di alang and zone si può parlare di nomos si può parlare di tutto fondamentalmente perché tanto non si vende nulla ma il suo è un canale un canale commerciale cioè un canale che propone orologi in che poi ci sia link che poi ci sia un'affiliazione che ci sia un accordo con l'orologeria con l'orologeria che gli hanno dato con chi volete insomma è un canale è un canale commerciale ora io dico per opportunità per opportunità non è che si può secondo me se si vuole essere credibili portare avanti tutto cioè un giorno psycho five comprate il psycho five perché diventerà un best buy diventerà aumenterà di valore possibile non io non voglio dir di no e poi allo stesso tempo si va da nomos e poi dopo si parla di alang and zone e poi cioè perché poi tutto questo è alla fine non siamo più credibili non siamo più qualificati diciamo così per per tutto cioè non si può diciamo vendere tutto oggi vendo un psycho five è usato domani un homos domani l'altro perché purtroppo c'è la clientela è una clientela diversa che con che ha requisiti diversi se oggi io propongo e nella mia collezione c'è un rolex taytona o rolex un mariner chiaramente resto rimango poco poco credibile quando propongo il psycho five l'incontrario insomma è una clientela che è diversa fondamentalmente che si muove spingendo su punti su punti diversi ora nel caso diciamo così di nomos che è un'azienda che comunque si sviluppa e c'è una clientela che vive insomma nel mondo del lusso e cioè ci vuole di presentarsi in un certo modo non certo con un certo stile insomma non si può andare all'aeroporto e meravigliarsi se si spende otto euro di una bibita cioè io lo capisco possono essere tanti o per qualcuno non lo metto un dubbio però insomma non è che sono prezzi così astrusi in un aeroporto ecco se poi andiamo a finire in città come la svizzera o c'è un lussemburgo cioè questi sono prezzi quasi diciamo così sono quasi occasioni sono quasi degli affari ecco per cui ecco anche questo meravigliarsi io capisco voler fare diciamo così il voler fare il vlog però squalifica ecco se uno vuole entrare se uno se uno vuole vendere diciamo un prodotto di lusso ecco questo questo voglio volevo un attimino dire visto che lui propone tutto insomma mette tutto in rete spero insomma che questo mio consiglio li possa essere d'aiuto e poi c'è alla fine anche una considerazione sua preso naturalmente anche lì insomma dalla da quello che è la sua così l'entusiasmo no del momento dice qui si respira dice un'aria a glasciut di di orologeria che è superiore anche alla svizzera no cioè anche qui no cioè prima di dire certe cose cioè io capisco che uno è preso dall'entusiasmo è preso diciamo dal momento magari è contento perché nomos l'ha invitato a vedere la propria manifattura però poi alla fine uno si chiede anche ma quante manifatture hai visto in vita tua cioè per poter dire che qui si respira cioè ti hanno fatto entrare anche da altre parti cioè quante quante cose quante quanto si è visto poi effettivamente in svizzera cioè quanto la si conosce no la svizzera cioè parliamo cioè di anche come volume un volume esageratamente superiore se per quanto tutti gli anni viene ridotto e ridotto e è sempre di più sono numeri sempre più risicati sì ma in confronto diciamo così a quello che è la produzione totale di movimenti meccanici cioè la svizzera ha una componente grossa insomma fa numeri importanti fa numeri grossi no come volume ma se parliamo da un punto di vista della qualità insomma voglio dire qua abbiamo anche delle cioè abbiamo dufour abbiamo parmigiani abbiamo giusne abbiamo i più grandi orologiai al mondo poi vogliamo mettere le culture vogliamo mettere cioè ademas piguet, patek, philippe ma quanti ce ne sono no e poi vorrei aggiungere insomma no che si glaschut ok a langenzone glaschut original siamo d'accordo ma cioè a langenzone io non metto non voglio per niente sminuire ok quello che è quello che è l'orologeria quello che è l'orologeria tedesca io ho comprato ora un turbi che è assemblato insomma per quello che in germania per cui sono consapevole che c'è esiste una un'orologeria tedesca esiste e è presente cosa che non esiste un'orologeria o perlomeno è talmente marginale che appena respira quella italiana quella italiana è un sospiro quella tedesca esiste quindi esiste una manifattura tedesca se questo siamo d'accordo ma ora a paragonarla a quello che è la svizzera mi sembra tantino diciamo tirato per i capelli insomma i miei poi peraltro perché mi sembra un'esagerazione insomma a langenzone con tutto il rispetto e la proprio la volontà di non volerla sminuire perché poi sta producendo degli orologi bellissimi ma fa parte del gruppo richmond e e sappiamo che nel momento della sua rinascita ci è riuscita non solo grazie naturalmente alla famiglia ma anche a iusì quindi ha avuto degli apporti dalla svizzera e poi dopo nel 2000 è diventata parte del gruppo richmond ma possiamo dire di glasciutto originale che ha movimenti propri che anche quella una splendida manifattura ma anche quella fa parte del gruppo swatch cioè fanno parte di gruppi che sono poi dopo svizzeri ora io capisco l'entusiasmo capisco capisco tutto però poi a un certo punto quando si entra se si vuole entrare ecco diciamo così nel mondo del lusso e lì ci sono delle persone diciamo così che sono specializzate insomma che sanno di quel che si parla no che sanno di quel che si insomma certe cose sono abbastanza tirate ecco sono abbastanza poco anche credibili insomma ma uno può dire sì ma io la sensazione che ci ho avuto sì è che si respira orologeria in questa città sì ma allo stato attuale quale altra manifattura si è vista cioè in quali altro posto siamo entrati ecco per poter fare una valutazione del genere ecco mi è sembrata un po' una cosa così un video un po' approssimativo ecco sinceramente però resta il fatto che comunque come diciamo approssimativo come idee diciamo ecco come per proporre diciamo da un punto di vista commerciale ecco diciamo come credibilità ecco del come forza no del personaggio che vende come invece documento ecco come sicuramente come informazioni è valido insomma il viaggio il viaggio che ha fatto sicuramente un viaggio insomma che credo sia interessante per tante persone e anche per me stesso insomma perché alla fine io non non c'ero mai entrato insomma non ci sono mai stato per cui sicuramente è stata un'occasione diciamo di arricchimento e su questo insomma bisogna ringraziare sia lui che sia Bracca sia Mattia nel canale Watchmania che tra l'altro ha pubblicato anche lui il video ma non l'ho ancora visto insomma insomma ci sarà poi occasione sicuramente di fare insomma anche il video di commentare insomma anche quel video spero che questo video vi sia piaciuto come sempre se vi è piaciuto mettete un like e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti